Direi che il caffè nero bollente oggi non c'è, direi che oggi un po' per il caldo forse è più un caffè ghiacciato perché qui notizie non ce ne sono, arrivi non ce ne sono. Allora credo che sia opportuno fare una riflessione sui tempi perché a oggi ancora non siamo in una situazione da allarme rosso ma io credo che sia opportuno stabilire dei limiti e quindi credo che entro e non oltre la prima settimana di agosto sia necessario, non opportuno necessario, l'arrivo di due centrocampisti. Poi se tra i due centrocampisti ci fosse anche Colpani che è il giocatore più offensivo visto come uno dei due trequartisti alle spalle della punta va bene lo stesso ma almeno due centrocampisti, due giocatori importanti, due titolari entro la prima settimana di agosto devono arrivare, altrimenti sarebbe veramente una situazione che vedrebbe Palladino in grandissima difficoltà.